Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Questa mattina il senatore Andrea Ostellari, presidente della seconda commissione permanente giustizia di sua iniziativa, ha visitato il comando provinciale dei carabinieri di Padova, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale il colonnello Oreste Liporace. Durante la sua permanenza il senatore si è congratulato con il comandante e i suoi militari che hanno condotto l'indagine di contrasto alla drangheta che si era trapiantata anche nella provincia di Padova e in quelle limitrofe, da poco conclusasi con l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 33 indagati e il sequestro di beni per un importo di 8 milioni di euro. Una giornata per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie e quelli di cui sappiamo soltanto il nome e i tanti, dei quali non abbiamo ancora conoscenza. La giornata per ricordare tutte le piscine comunali di Treviso avrà luogo infatti la celebrazione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa dalla regione Veneto con il patrocinio del comune di Treviso e realizzata da avviso pubblico in collaborazione con Libera. La giornata regionale e quella nazionale che quest'anno sarà celebrata proprio a Padova il 21 marzo sono idealmente collegate tra di loro. I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e della stazione di Legnaro a conclusione di una lunga e minuziosa e laboriosa indagine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Padova nei confronti di tre donne e di un uomo che avevano costituito un consolidato sodalizio criminale specializzato nella commissione di reati predatori ai danni di persone anziane di cui con una posizione meno grave facevano parte anche altre tre donne indagate in stato di libertà. La custodia cautelare in carcere è avvenuta nei confronti di Gurcevic Smeralda, 28 anni residente a Treviso già in regime di detenzione domiciliare per altra causa. L'applicazione invece degli arresti domiciliari è anche della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per LA 50enne e HR 53enne, entrambe donne residenti rispettivamente a Treviso e a Paese, sempre in provincia di Treviso, nonché per AP 22enne, unico uomo del gruppo, residente sempre nella marca. I destinatari del provvedimento cautelare risultano a vario titolo indagati in concorso con altre tre donne, sempre del Trevisiano, in relazione a dieci episodi di furto aggravato in abitazione commessi tra i mesi di settembre e di gennaio di quest'anno nelle province di Padova, Venezia e Vicenza, e di Treviso ai danni di anziane vittime, dicevamo, anche in precarie condizioni di salute. L'attività investigativa della compagnia di Piove di Sacco ha consentito di far emergere a calico del gruppo criminale irresponsabile dei furti che hanno fruttato un illecito provento di ben 25 mila euro. Ancora la cronaca, ieri sera, verso le 18, nei pressi dell'area di servizio Limenella, in direzione a Venezia, una pattuglia di polizia stradale di Padova effettuava un controllo di autobus con agganciato un rimorchio immatricolato a Moldavia. Durante l'esame si accertava che oltre alle persone e ai loro effetti personali vi erano stivati diversi pacchi di varia forma e forgia, tanti da riempire completamente il rimorchio e parte dell'abitacolo del bus. Predetta merce, non essendo riconducibile alle persone trasportate dal veicolo a Moldavo, è da considerarsi a tutti gli effetti merce regolamentata dalla normativa del trasporto internazionale di cose per conto di terzi. L'autista quindi veniva multato di 4.130 euro il fermo amministrativo del mezzo. Lo stesso autista effettuava immediatamente in contanti a pagare la multa appunto prevista. Poco prima delle 8 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 34 nei pressi del laghetto di Altavilla Vicentina per un tamponamento tra un furgone, un mezzo pesante. È ferito il conducente del mezzo più leggero. I pompieri a corsa da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi e quindi estratto il conducente dal furgone di Latticini e rimasto bloccato nella cabina di guida. Il ferito è stato poi preso in cura dal personale del 118. Ieri sera alle 21.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un incendio di una legnaia e dal tetto di un'abitazione in via Zoccatta a Sanstino di Livenza. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Porto Gruaro hanno circoscritto le fiamme del tetto evitando l'estensione del rogo a tutta la copertura. Un'auto questa mattina intorno alle 11.30 è uscita di strada in forma autonoma in Cavalcavia Grassi a Padova. Sul posto il Vigile del Fuoco, il 118 e la Polizia di Stato per soccorrere le persone all'interno dell'abitacolo. Il bilancio vede un ferito trasportato poi all'ospedale dal suo 118. Incidente stradale anche a Gran Torto sull'incrocio tra via Santa Margherita e via Solferino. Questa mattina tra le 9 e le 9.30 tra tre autovetture. Il bilancio è di un ferito portato all'ospedale di due persone illese sul posto di Vigile del Fuoco di Cittadella e la Polizia, ovviamente, locale di Gran Torto. Alle 14.30 di oggi pomeriggio, all'apertura di un mezzo pesante a Padova e in via Prima Strada, in attesa di scarico presso l'azienda della birra Italo Pilsen, è stata trovata una persona deceduta. Nel comune di Borgo Veneto, in provincia di Padova, località Megliadino, l'intervento dei Vigili del Fuoco di Este per un taglio di una sbarra che delimita il divieto di accesso ai mezzi pesanti al centro commerciale Tosano. La sbarra, infatti, si era incastrata nel camion con la rottura del parabrezza. Alcune persone intorno alla stazione ferroviaria e in piazza De Gasperi hanno stipulato con Sicuritalia, un'agenzia di sicurezza, un contratto per salvaguardare la propria incolumità da spacciatori e balordi. Ma ciò, per il questore di Padova e per il prefetto, non si può fare, in quanto questa è una situazione di polizia. In sostanza, quindi, va praticamente aggiudicata unicamente alle forze di polizia. Sulla questione oggi è intervenuto anche il sindaco Giordani. Vediamo. Io non voglio certamente incentivare una cosa del genere, ma se uno vuole avere la sicurezza in più, non sono assolutamente contrari. Dovrebbe essere compito della polizia locale, delle guardie di finanza e il carabinieri della polizia. Però se c'è l'aiuto anche dei privati, è importante che la città sia più sicura. Presentata questa mattina con un ritorno della nazionale Under-19, proprio qui in Veneto, ma la missione è la stessa di tre anni fa, cioè quella di conquistare l'accesso alla finale nazionale, sulla fase finale dell'europeo di categoria, in ritiro a Padova, dove la FGC ha installato il quartier generale del gruppo 7. Gli azzurrini, allenati da Federico Guidi, si contenderanno con Belgio, Serbia e Ucraina, l'unico posto a disposizione per volare poi in Armenia, dove si svolgerà la fase finale dell'europeo dal 14 al 27 luglio. Stiamo parlando ovviamente dell'europeo Under-19. Vediamo. È sempre bello vedere l'Azzurro in campo, per cui andrò a vedere due partite, cerco di andare perché mi interessa, mi piace molto. L'Uganio è grande, è un impianto che va sicuramente sistemato. Noi come amministrazione facciamo il tifo perché venga sistemato quel progetto nel Caccio Padova. Qualora entro l'estate non avessimo risposte, saremmo costretti, se non perdiamo due milioni di euro, a fare qualcosa sicuramente di meno bello, però ci auguriamo efficace. Che sarebbe poi la prima iniziativa di una serie di iniziative che verranno fatte. Io faccio anche un grande bocca e lupo al Padova perché siamo in una situazione difficile e ho due, chiamiamoli, probei. Uno come sindaco perché si retrocede, ma non voglio neanche pensarsi che retrocede il Padova. E secondo come tifoso, per cui è una sofferenza doppia nel mio caso. Io sono abbastanza sicuro, certo, che ce la facciamo. In qualche modo ci saliamo. Ma l'ultimo minuto, l'ultima giornata, per Giaventura e qualche altra squadra non sana, io dico che ce la facciamo. Io sono ancora convinto. E prima di lasciarvi, vi ricordo l'appuntamento con Caffè Sport. Stasera alle ore 21 con il collega Simone Francescon. Si parlerà ovviamente di calcio, ma anche di altri sport che ovviamente vedono la nostra città protagonista. È tutto, grazie per l'attenzione e una buona visione dei nostri programmi.